Allora mister, innanzitutto benvenuto, sei ufficialmente il nuovo allenatore della prima vera della Viterbese, ci racconti un po' come stai vivendo questa nuova avventura? Innanzitutto grazie, grazie dell'accoglienza e dell'opportunità, è stata comunque un'occasione presa al volo e ringrazio il direttore Pistolesi per la considerazione. Sto vivendo da qualche giorno la città e la squadra, ho trovato un gruppo assolutamente affiatato, un gruppo che lavora bene, maturo, con buonissime qualità e una grossa mentalità. Prendi in mano una squadra che ha il comando del proprio girone e su cui le aspettative della società sono alte, è qualcosa che ti spaventa o è uno stimolo in più? Guarda, è uno stimolo grandissimo perché comunque Subentri ha una gestione che secondo me è stata fatta nella migliore maniera e con un allenatore che comunque è preparato e in qualche modo ha mentalizzato già questi ragazzi, quindi il mio obiettivo è quello di continuare e di farli crescere ancora di più. Questa è un'età fantastica, un'età dove i ragazzi credono nelle tue proposte, credono nel tuo percorso anche da giocatore, quindi io vedo che quando parlo ho credibilità dai loro sguardi, lo percepisco e spero insomma in qualche modo di mettere i tasselli ogni giorno per la crescita di questo gruppo. Nella stragrande maggioranza dei casi un allenatore entra in corsa quando le cose vanno male, il tuo caso rappresenta senza dubbio un'eccezione, ecco in virtù di questo che tipo di approccio hai pensato di avere con i ragazzi? Innanzitutto sono stato fortunato, sono un mister privilegiato perché entro in corsa con una squadra prima in classifica dove sta facendo benissimo e quindi ecco l'idea, la mia idea è stata sempre quella di creare rapporto con i ragazzi e assolutamente perché senza quello non si va da nessuna parte, sono un allenatore che non è un integralista che si fa quello che dico io perché capisco tutto io, ma c'è un rapporto continuo anche di dialogo, quindi nel momento in cui qualcosa non torna delle mie proposte la mia porta è aperta e i ragazzi sono intelligenti nell'interpretare quello che gli ho detto e vedo che c'è grande, grandissima partecipazione. Conoscevi già qualcuno di loro? No, effettivamente non li conoscevo i ragazzi, nel momento in cui Francesco mi aveva avvisato della possibilità, li ho studiati in video, sono andati a vederli a Teramo nella partita che hanno giocato domenica scorsa e da lì mi sono cominciato a fare un'idea, è una squadra con dei prospetti importanti, dei ragazzi che se credono in quello che ogni giorno fanno in campo possono comunque in qualche modo realizzare il loro sogno, naturalmente la strada è lunga e per mantenere alta la tensione, alta la concentrazione ci pensiamo io e il mio staff. Hai già avuto un'esperienza da allenatore con l'Under 16 del Pescara, poi sempre a Pescara sei entrato nello staff tecnico della primavera e poi sei diventato il vice di Piloni in prima squadra, la Viterbese che tappa rappresenta? Io vengo da un'esperienza importantissima recente con Mr. Piloni, ero il vice allenatore della prima squadra Pescara, abbiamo raggiunto dei grossi obiettivi tra cui una salvezza e una semifinale persa per andare in Serie A. Prima avevo fatto un percorso nelle giovanili come vice allenatore in primavera e come tecnico degli Under 16 e quindi ecco il mio percorso di allenatore è appena iniziato, io sono il primo a dire che sono stato sì un buon giocatore ma sono ancora un allenatore in fase così di crescita e quindi in qualche modo ho le mie idee e le mie idee verranno così in qualche modo messe in pratica se poi ho dall'altra parte una squadra, un gruppo che ascolta e che sa lavorare rispetto a quello che propongo.